Il mio primo libro è stato il santo in ero che ha fatto tutti i suoi L'euro in ero è stato un po' di più quando si andava avesse un po' di più che era un po' di più e che era un po' di più antepinale mi sembrava che non è stato un po' di più ma nella città dell'euro che in ero Inse questo video dove poi fa portare la Commissione di Peru, la Commissione di Irak e la Commissione di Syria, la Commissione. Le nationallye si è uniletto di una fine partecipazione del paio che fa l'interno della sua cultura. La Commissione del Parlamente ha brilliantato alla Commissione della Commissione di armonia. a meno che non si sta iniziando il silenzio e non si sta iniziando il silenzio sono da cinque dei caos 3 anni nel senzio ci sono stati prescrittati sulle dimensioni di Qudistana perché posso dire nella scena che amato con un cibo di Qudistana un progetto era un progetto diplomatico, il progetto democratico e il progetto che c'è il progetto inダUnione scena, Tarkia, il partito e i nostri e le i nostri progetti, abbiamo fatto un progetto democratico, e non è un progetto che pensiamo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 di tener que adoro il mondo ed è stato fatto e, inoltre i milioni e gli corsi è arrivato per ora, qui vanno poi a paro di erdogan si sono costruita non ci si sono le rime se nel eramanico si f rivellono il libri e la rivellione è trovato inoltre non c'è il soggetto si è un soggetto che sono stati come a fare come sottile... ...qu'è quello che di paese... ...doletna turchia, c'è una dottiglia del ducco, ... ed il gioco, salto sul mano... ...e una domanda, ...che un po' che si chiama, ...e una autorezza del corso... ...e una prima dottorazione turchia, ...in modo che tutte le dottorazioni, ...doletna per la Prensa... ...e una dottorazione di Rimo Krodesca. ...e una domanda. ...e una domanda tra l'ottorazione di Rimo Krodesca. ...e una domanda che è passata a Rimo Krodesca. non dovrò andare a uno fare ma altrimenti quello che hanno avuto il risico dalla città di popolari interitarie ovviamente non creano che non riesce a far parte se il fatto che non è accolato ha fatto che non riesce a far parte non pensi che ASSIL non pensi chiede non riesce a far parte non riesce a far parte non riesce a fare e che hanno di essere uguali a l'anima. Quindi io sono anche un po' di Kyrda, e sono iniziati a una scétera. Non c'è anche un po' di Kyrda. Anche queste cose sono i Kyrdi. Sono i Kyrdi. Sono i Kyrdi. Sono i Kyrdi. Non credo che sono venuti in quanto riguarda la Turchia la domina della Kyrda. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info